Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Prestare però attenzione per le avverse condizioni meteo con piogge sparse su tutta la regione. In A1 segnalata nebbia a banchi sul tratto appenninico tra Rioveggio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Spieve e Santo Stefano Sud in direzione Orte. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze e al via i saggi archeologici in Viale Lavagnini sono previste modifiche alla circolazione. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!